Si è chiuso a Torino il 18 novembre il Tour dei Mille, edizione 2011 di Working Capital, premio nazionale dell'innovazione che ha dato vita a una vera e propria spedizione nelle università e nei principali centri di ricerca del paese a caccia dei nuovi mille innovatori e di progetti e idee di impresa ad alto contenuto innovativo. Dopo otto mesi di viaggio e la presentazione di 2.139 progetti, le 150 idee migliori sono state esposte nel corso dell'ultimo appuntamento di Working Capital all'interno di Stazione Futuro, la mostra di Riccardo Luna realizzata nell'ambito di esperienza Italia, proprio per raccontare l'Italia del domani, che è già in costruzione. Per me vuol dire aver realizzato quello che volevo fare all'inizio, cioè quando mi chiesero di fare la mostra, di sì, facciamo la mostra, ma facciamo soprattutto un grande percorso di innovazione, di ricerca di talenti in giro per l'Italia, in modo che una mostra sul futuro diventasse anche un'occasione per andare a cercare e dare un'occasione di futuro ai ragazzi italiani. Per il paese vuol dire molto, vuol dire che siamo molto migliori di quello che ci diciamo, di quello che leggiamo in giro. Speriamo di accorgersene, ora ce n'è bisogno. I progetti migliori hanno ottenuto nel corso dell'appuntamento torinese finanziamenti da 100.000 e 30.000 euro, messi in palio da Telecom Italia, Comitato Italia 150, Regione Piemonte e Fondazione CRT, per il valore complessivo di un milione di euro. Altri due riconoscimenti del valore di un milione di euro ciascuno sono stati assegnati invece da un fondo di investimento specializzato in Venture Capital, alle due migliori start-up dell'edizione 2011 di Working Capital. Da soluzioni per migliorare le prestazioni e abbattere le dispersioni nei sistemi industriali a nuovi trattamenti medicali, da idee per il riuso degli oli esausti e degli scarti di macellazione fino a social network progettati per agevolare le relazioni condominiali a nuove esperienze enogastronomiche. A Torino si è ritrovata la linea verde degli innovatori italiani, con grande soddisfazione di chi, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ha deciso di puntare l'attenzione anche sul futuro del nostro paese, come il Comitato Italia 150 e la Regione Piemonte. Noi l'avevamo immaginato così, quando l'avventura a inizio marzo è partita, volevamo che alla fine tutta Italia in sostanza partecipasse a questa giornata e che i progetti che oggi vengono premiati fossero l'espressione della parte più bella, più dinamica, più attiva del nostro paese. Oggi dobbiamo lavorare certamente per celebrare quello che è stato, ma per scrivere la parola futuro nei programmi prossimi e soprattutto dovremo lavorare affinché la nostra Regione continui ad essere protagonista nel Premio per l'Innovazione, continui ad ospitare occasioni come queste e continui a lavorare per mettere insieme interessi privati e realtà pubbliche, al fine di continuare ad aiutare nuovi talenti, al fine di continuare a scegliere e supportare chi guardando al passato celebra l'Italia, ma soprattutto ci aiuta a scrivere un'Italia migliore, più dinamica, più competitiva e più occupata.